Viva l'Italia che ci prova e che rischia! L'Italia, nel tempo che verrà, potrà essere protagonista se la smette di piangersi addosso e se prova concretamente a cambiare le cose. Finalmente la politica fa vedere le cose buone, le cose che rendono questa comunità una comunità solida perché solidale, forte perché capace di non lasciare indietro nessuno. L'Europa è casa nostra, non solo nostra di noi italiani ma è casa nostra ed è la casa dei nostri figli e della casa dei nostri nipoti. Grazie per la visione!